Sono siciliano, il mio primo cd che si intitola Grazie al cielo, il primo brano che contiene pure un video girato nella città di Siracusa. So qui è il suo cd, avviciniamolo, operatore mi riprende? Va bene? Ben inquadrato? Ecco, nuovo aggiornamento, sono le ore 12.24, nuovo aggiornamento per Nuzio alla rossa prima della chiusura. Sì, voglio dire insomma che da qualche giorno... Grazie a tutti.